Ciao e benvenuti a Pillole di Design. Quella che vedete è una seduta chiamata Barcelona e progettata da Lily Rake e Miss Van Der Rohe. Attorno al 1929, il padeglione Barcellona, progettato da Miss Van Der Rohe, all'interno aveva prodotti sedute fatte con questo stile, progettati proprio da Miss Van Der Rohe e Lily Rake. Questa è l'espressione artistica di un lavoro durato una vita, per rappresentare il minimalismo. Questo è un prodotto estremamente semplice, funzionale minimale, togliendo tutto il superfluo per lasciare l'essenziale. Persino i bottoni, quelli che vedete che segnano, che dividono le varie parti in pelle, sono stati fatti solo per una questione funzionale, per mantenere la pelle unita alla struttura interna. Questo è uno dei prodotti più rappresentativi del mondo del design e dello stile minimalista. Tutto qui, ciao ragazzi! Grazie! Grazie!